Per introdurre la presentazione delle principali magistrature romane ci serviremo di un interessante documento. Quella che vediamo è un epigrafe, cioè una placca commemorativa dedicata ad Appio Claudio Ceco e conservata al Museo della Civiltà di Roma. Chi era Appio Claudio Ceco? Un personaggio politico importante nella storia di Roma a cavallo tra il IV e il III secolo a.C. È una placca commemorativa la cui prima parte è dedicata alla cursus honorum, cioè alla carriera politica del personaggio in questione. La prima parte infatti è costituita da un elenco delle cariche ricoperte da Appio Claudio Ceco. In primo luogo la carica di censore, poi quella di console per due volte, la carica di dictator, di interrex, cioè di interre, poi la carica di edile curule ricoperta per due volte, la carica di questor, cioè di questore, sempre due volte e infine la carica di tribuno militare per tre.